Minacce e raid armati con mitragliatrici e pistole per estorcere denaro dagli 800 ai 3.000 euro da titolari di attività di distorazione, commercianti al dettaglio e rivenditori nel mercato ittico di Pozzuoli. In tre sono stati arrestati dai carabinieri e sono accusati di estorsione, tentata estorsione in concorso, detenzione e porto illegale di armi con le aggravanti delle finalità mafiose. Le attività investigative hanno messo in luce alcuni episodi estorsivi messi in atto tra il mese di settembre e il mese di dicembre del 2017 da un gruppo di persone facenti capo a Carlo Avallone, detto il Fantasma, il quale, forte dell'assenza dal territorio dei capi storici del clan Longobardi, avrebbe organizzato numerosi raid armati ed esplosioni di colpi d'arma da fuoco, oltre 10 in soli tre mesi nei confronti delle attività commerciali. Alla ricostruzione dei vari episodi hanno concorso le attività di intercettazione con i riscontri delle testimonianze rese dalle vittime. Un ruolo decisivo è stato il ritrovamento della contabilità contenuta all'interno di una sorta di agenda nel cui interno erano indicati, con termini anche criptici, i commercianti da taglieggiare e le somme da pagare. Tale agenda è stata trovata all'interno del locale dove Avallone si nascondeva per evitare l'esecuzione di un'altra misura cautelare.